Quali sono le competenze trasversali per poter essere spendibile in diversi contesti senza ovviamente essere tuttologo? Il disability manager è una figura professionale che può spendersi in tutti i campi vitali, l'educazione, il lavoro, il tempo libero, la cultura. La sua missione è quella di operare per migliorare la qualità di vita di tutte le persone, necessita pertanto di competenze trasversali senza essere un tuttologo. Occorre che sappia rispondere alla domanda di pari opportunità e inclusione in ambito sociale e lavorativo e coordinare le politiche per l'accessibilità diffusa di spazi e servizi. Conoscere la normativa, il funzionamento aziendale, il suo contesto, ma soprattutto valorizzare le competenze di ognuno perché tutti siamo portatori di valore. Queste sono per me le caratteristiche che deve possedere un disability manager. Relazionandosi con vari ambiti e livelli aziendali, il disability manager deve sapere ascoltare i bisogni e le necessità che gli vengono esposti, riuscire ad avere una visione di insieme dell'azienda per poter definire degli interventi che non siano figli di se stessi. Deve saper sopportare tutti i ruoli aziendali nel percorso di inclusione e valorizzazione delle risorse. Deve essere in formazione continua ricercando gli strumenti migliori da adottare in ogni situazione, soprattutto su aspetti normativi e tecnologie assistive. Capacità di ascolto, di mediazione, di lavoro in team e problem solving. Grazie a tutti.